BELLA A TUTTI RAGAZZI QUA E BRAVI STI FUOCO Qua se avete trovato questo nuovo video dove vi farò vedere il mio nuovo slime E che non avessi prima l'episodio vi facevo vedere Questo qua è uno, l'altra volta erano tanti Però questo qua vale tutti quanti gli altri, ve lo dico Allora qualcuno magari lo conoscerà già Però c'è Aspetta che metto il tuo slime Ok c'è pure un'altra cosa che mi ha spoilerato la mamma Comunque non c'è soltanto questo ma c'è pure un'altra cosa bellissima Prima, dopo vi faccio vedere lo slime Allora guardate Oh mia Human Allora guardate Ah comunque non lo dico io Si è scritto Human organs Contiene una carta E più un organo Conservato nello slime E voglio vedere la copertina E ragazzi L'organo Ah che schifo L'organo E' un pezzo Dele Qua Sperate che lo faccio vedere bene Che così non si crede bene Che così non si crede bene Un cavolo di pezzolingo Col sangue pure Aspettate che lo tocco Guardate Ah Con pure il sangue Ragazzi che mi faccio vedere bene il sangue Madonna Madonna Ragazzi Madonna Madonna Che schifo Però è finta E' bella Bella Però lo slime C'è lo slime Mi sono innamorato E' bellissimo Guardate Adesso lo facciamo Molta bene Ma tanto Sono proprio a fare così Guardate E' bellissimo Faccio una finestra Guardate Aspettate Deve formarsi tutto Quanto insieme Prima Che paghe Guardate Vedro 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 Vedissimo Aspettate raga Che vi faccio il vetro Più bello del mondo Che vi faccio il vetro Più bello del mondo Ma no C'è un buco Togliato Il buco Ragazzi Ovviamente Sti Oh Mime Ragazzi Ragazzi Vi fisso con Con lo slime E' come avere il vetro C'è Aspetta un attimo Guardate Guardate Vi osservo Benissimo Madonna Oh Vi osservo Vi osservo Aspetta Aspetta voi Vedete vedere Tanto Facciamoci su un po' Di su questa lingua Che pure Guardate Guardate Qua Toccarla Non si attacca neanche Lo squishy Lo slime Non lo squishy Se vi faccio vedere Vedere i miei squishy Dai dopo Guardate Se lo slime Forma Tu Al 100% Palala Palala Madonna Adesso Lo rimettiamo dentro Allora Scatola Mettiamo dentro La Lua Prendiamo lo slime Oh mi dio che figo questo Ok Si è rotta subito Mettiamo dentro Tu facciamo La lingua Ecco Non mi dovrebbe uscire così Appena ne trovate Beh Però Non soltanto la lingua Potete trovare un cervello Un cuore Un orecchio Un dito Tutto quanto il mondo Adesso vi faccio vedere Un'altra cosa Adesso Ho comprato Da l'edicola Questa Cioè Allora Mio papà è andato in edicola A prendere Queste cose Oppure E' andato in edicola E dopo Dopo me l'ha detto E gli ho detto Perché non faccio il video subito Adesso l'ho fatto Lo stiamo facendo Il video Bello Bello Madonna E' fatto benissimo Questo Scacciare Non si fa niente Ma dentro ci sono Tipo delle perline Sentite Non si sentirà mai Però Aspetta Voglio vedere Dove Il grume Qua Cioè davvero Si sente Al massimo Madonna Ve la lascio qua Per vedere Dopo Aspetta Miniaturina Della Bocca 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 Mi sta maniando Piace giocare a me Ok Per questo è finita Ok Ce l'appoggia Cosa Appoggia Dovevano Che è molto pro No no Non è pro Per i forti Allora Adesso devo prendere Squishy Iniziamo con quello Che ho raggiunto Prima Ragazzi 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 Ditemi Se volete Poi un gameplay Di fifa Con mio papà Però Ve lo porto Di Un gameplay Di Tutto quanto Quello che volete Va bene Ah no Mi avete fatto Sponerare Questo è lo Squishy Pando Squishy Fa un profumo Di vanile Incredibile Guardate Guardate Buonissimo Guardate Per dimostrarvi Che lo Squishy Possiamo Parlarvi Siamo Possiamo Parlarvi No E si Con un Scegimento E Oh Ma Dio Che Cavolo Ha Fatto Be E Bellissimo Vedo Che si Riforma Bella Ora Questo Ve lo Faccio Vedere Dopo Aspetta Miniaturina Non Ne Vediamo Perché E Stai Ti Stai Appoggia Cosa Telefoni Bellissimo Se Vedete Un po' Questa Inquadratura Scusate Non c'avevo Quello Per andare In Una Cosa Per fare Non c'avevo L'appoggio Quindi Non potevo Fare Niente E Bellissimo Poi Gelato Squishy Per fare Di Guardate Aspetta Aspetta Lo faccio Da qua Buongiorno E' Comunque Squishy Guardate Squishy Benissimo Squishy Poi c'è Questo E' Profumo Di Macimello Macimello Quelli Molte Macimello Quelli Normali Questo Qua non c'è Di Il pane Di cose Di McDonald's No Di gelato Scusate Poi c'è Un'altra cosa Un'altra cosa Molto più Importante Nella mia vita Crescente No O To Bata P Appreciate Mo altissima preziosa la medaglia del calciatore guardate per dimostrarvi che è vero che non lo fa il taglio c'è scritto torneo vabbè voi non lo vedete ma magari allora guardate torneo allora c'è scritto torneo torneo indoor 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 2018 torneo indoor 2018 indoor con il calciatore che tira e mi l'ho ricevuto a calcio per torneo un po' tempo fa c'è bellissimo raga guardate datemi ho fatto adesso la dieta abbiamo giocato con quelli selezionati quindi c'è la metà o la metà medaglia adesso la rimetto posto aspettate un attimo o raga sono ritornato e purtroppo questo cavolo di vita è finito qua lasciamo 5 like per il prossimo video ma per una medaglia 6 perché è molto bella e ciò iscrivetevi al canale commentate se avete vinto una medaglia e se ci avete con lo schifo di slime e andiamoci alla prossima guida